Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con la 37esima parte della nostra guida Pokémon Bianco 2 Ci ritroviamo alla Lega Pokémon pronti per sfidare Antemia, la prima del Super 4 Praticamente sono rimasti invariati Ed ecco qua che un secondo vi faccio vedere un po' la squadra Ho allenato quasi tutti a livello 55 su per giù Abbiamo Flygol, Shizo appunto, Inox al 53 Capitano Kid al 56, Nami al 55 e Gelicent al 55 Quindi prima di tutto, prima di andare ad affrontare appunto Antemia Voglio vedere un po' le mose che posso insegnare Pokémon per trovarmi meglio Vediamo un po' Entomoglock, Invertivolt Forse un Brattigli potrebbe essere utile Vediamo un po' chi... nessuno, ovviamente Coda Draghi, Trovampadra, Geloraggio, l'ho già insegnato alla... Gelicent E Fulmine, io credevo che appunto la mossa Fulmine Mi sembra che la poteva imparare anche Shizo Metang, però... Metagross, in questo caso no Comunque sia, allora, di scorte Mi sembra che ne ho abbastanza, insomma, di strumenti vari Vediamo un po', rivitalizzante 36 Cura totale 21, ricarica totale 34 4 rivitalizzante max Allora, copriamo... boh, un'altra decina e decina e poi ci siamo Allora, ricarica totale 10 Ok, e rivitalizzanti 10 Perfetto Ok, a questo punto possiamo anche avviarci verso la Lega Pokémon Salve, signor... la Lega Pokémon è il luogo dove si misurano le bravure e l'ambizione La regola è una sola Sconfiggere prima i Super 4 e poi il campione Puoi sfidare i Super 4 nell'ordine che preferisci E se li sconfiggi tu ti affronterai il campione Fai attenzione, però, una volta all'interno della Pokémon Sì, ba, 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 ok, va bene Oh, che cazzo fai? Sì, allora vai, e fammi entrare Perfetto, appunto, la prima che sfideremo Dei Super 4 che sono rimasti totalmente invariati Sarà Antemia Antemia che avrà i Pokémon tipo Buio o Sprettro Quindi la mia, diciamo, intenzione era di utilizzare Flygol In questo caso Nami E nel caso anche Gellicent Però, questo da vita Il primo che manderà sarà Kofagirus Se non mi ricordo male, almeno Penso di sì Perfetto Ma che cazzo è? Aspetta, perché questa cosa non mi piace Allora, diamogli una Baccarancia Nami Baccarancia Baccarancia Vediamo un po' qua che cosa abbiamo Mirino Mirino dai, sì A Nami Perché con Sgranocchio Non sarebbe male fare qualche brutto colpo Pietra nonare, furia di fuga Metal coperta Bisogno elettro Metal coperta Perfetto Lo diamo invece a questo punto A Scizzo Che ha il Fortu Nuovo Che non serve E poi penso Basta Condividi esperienza Palla a fumo Chicball Flauto rostro Basta Perfetto Andiamo Bum 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 Si accendono i candelabri Uh La stanza che si muove Sembra tipo quella di Harry Potter Perfetto La lampadina che si rimette a posto Inseguiva la verità Girando per il mondo A fianco di un pokemon Drago bianco Come la neve Nel inizio del romanzo Che ho iniziato a scrivere da poco Voglio cristallizzare Scusa Sto divagando Sono Antemia A pokemon Di tipo spettato E preparati alla lotta Ok inizia la prima sfida Fuoco fatuo Fuoco fatuo ci brucia E noi invece continueremo appunto Con Sgranocchio Ah flygole Ha imparato anche Drago artigli Una mossa che è appunto Fisica Drago E Ne avevamo bisogno Anche perchè flygole È più potente nelle mosse tipo Fisiche Più potente nelle mosse fisiche Che invece in quelle Quelle normali Insomma Quelle speciali Usiamo un altro Sgranocchio Oh porca maiala Porca troia E qui flygole va fuori Eh si Eh Allora Andiamo a Nami Che ha comunque sia Ecco Fagrius Ha meno 2 di difesa Perchè appunto Meno 1 di attacco Lui userà uno strumento Lei userà uno strumento E quindi possiamo benissimo Utilizzare sgranocchio Vediamo un po' quanto li togliamo E beh Andiamo ad attaccare di nuovo Vediamo 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 Esatto Perfetto Ok Il primo pokemon di Antemia È andato Sarà Golurk Eh appunto Il pokemon Quello che sembra Un transformers gigante Io manderei Gellicent A livello 56 Che utilizza Peso bomba Breccia Terremoto Pugno ombra Queste me ne sono scritte Perchè Altrimenti Non me ne scordavo Eh tipo Terra buio Anche lui Terra spettro Abbastanza forte Perchè Utilizza Anche uno strumento Che potenza Che potenza le mosse Che hanno Nel senso Fuoco pugno Che è Nell'insieme Ok Avete capito benissimo Manderà Driflim Noi manderemo Electabuzz Capitano Kid Con Driflim Con Driflim Con Driflim A livello 56 Che utilizza Palla ombra Psichico Fulmine Acrobazia Ovviamente Io utilizzerei Un tono pugno Perchè Il fisico Mi sembra Che era Più forte Uh quasi Quasi Questa palla ombra Eh vabbè Non ci ha tolto molto Difesa speciale Di Electabuzz È molto forte Brutto colpo Perfetto Usate anche scopio Come abilità E poi avrà Shandelure Ormai Shandelure Lo conoscete Benissimo Tutti Io Sacrificherei Capitano Kid Per curare Appunto Il nostro Driflim E poterlo Eh Anche Lattemù Questo non me ne ricordavo Vabbè dai Tanto Gellicent Ce la fa Benissimo Usa Energy Palla E ovviamente Ci manda K.O Noi mandiamo Gellicent Eccolo qua E Usiamo Gli L'attacco Surf Usa Palla Ombra Maledetto Pensavo fosse più veloce Driflim Gellicent Scusate In questo caso No Mandiamo Nami A questo punto Levelo 58 Shandelure Quindi credo che sia L'ultimo Pokémon Siamo a 4 Quindi Anche perché Ne ho scritti 4 A meno che Non Veramente Non Ne tiene qualcuno Segreto Palla Ombra Nami Dovrebbe resistere Alla grande Esatto Usiamogli Un altro Sgaranocchio E No Porca Maiala Pensavo fosse morta Bastarda A questo punto Mandiamo Shizzo Boom Cioè la difesa Di Shizzo È impressionante Che tra l'altro Non può imparare Nemmeno Ombra Mi sembra Mi sembra che imparava Anche quello Usiamo Il meter Pugno Focobomba Porca Troia Orco Cane Oh Cacchio Ok A questo punto Dobbiamo Utilizzare Un revitalizzante Mi sono distratto Un secondo Mai Mai distrarsi Usiamo Un revitalizzante Tsunami Usa di nuovo Focobomba E qui Inox Ovviamente Viene mandato K Io penso Che resista E quindi Andrei Per Uno sgranocchio Sì E Nami E Nami Porta a conclusione Il primo match Della Lega Pokémon Che appunto Ci vede Trionfanti Contro Antemia Sale a livello 56 Nami Oh Ok Pensavo che Sotto volete Dato un po' L'avversaria Eh sì Ok grazie Prendiamo il teletrasporto Che ci porterà All'esterno Tutu E qui si è acceso Il primo quadratino Appunto Perché abbiamo vinto La Prima super 4 A questo punto Io mi metterò A curare Tutta la squadra Come al solito Vi dico Votate Commentate Ed Iscrivetevi Vi auguro Un Oramai anche se è passato Perché Avevo già preparato Una parte di Call of Duty Black Ops Durava tipo 2 minuti Eh però Purtroppo Non l'ho potuta caricare Perché l'avevo Eh registrato All'incontrario E Avevo registrato Il video due volte Ma YouTube Continuava ad uploadarmi Sempre per il verso Sbagliato Quindi all'incontrario Era un augurio Di buon ferragosto Quindi Mi dispiace Se non ve l'ho fatto Per subito Ve lo auguro adesso Buon ferragosto Anche se è passato Eh Come al solito Vi dico Votate Commentate Iscrivetevi Un ciao Daici88 Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi